Amico da YouTube, un bia mas, buon venit di un'altra entrevista. A voi noi stiamo conversando con il signor Benny Nisbet, leader di Partido Oranio, Partido PPA. Signor Nisbet, un bia mas, buon venit di una nostra grabazione di Awe, specialmente per informare a noi televidenti da YouTube, RETO24FM e JohnnyHabib.com. Johnny, grazie per l'invitazione. Manera sempre, noi di Parti di PPA, sempre sta disposto per partecipare e donare a Pueblo e informazione necessaria. Nostro comissario si è entrevista di Awe a traves di YouTube, RETO24FM e JohnnyHabib.com, con una pregunta directa del signor Nisbet. Signor Nisbet, dicono, segun informazione di Partido PPA, a escoge il sito di Urirama che sta causando attualmente il problema. Che cosa, signor Nisbet, per informarnos al rispetto? Sì, Johnny, nel primo lugar, non c'è dubbio che il proietto di Urirama ha causato, e sta causando, e mi sta convenzendo che lo sia causato, un impatto proprio negativo nella comunità urbana. e, per me, la seconda di PPP è la base, di cui il governo si arriva nella sua decisione per escoge il sito di Urirama. Tassina, quando abbiamo studiato con il Partito PPA-Ajasi, abbiamo anche il rapporto di Cheima, che è basato su due consigli di consultanti che sono involvi. E riba pagina 14 di lo che non sta chiamando il tempo e il concept report, non sta chiamando il why this location. Antolomi cita lo che non sta chiamando, se non sta chiamando il PPA, non sta chiamando il principio, però non sta chiamando un rato che non sta chiamando il rapport. Nantabisa, for technical and economic reasons, a location is preferred that is as far as possible from the existing wind farm Father Pete in the southeast part of the island. The reason for keeping distance is the following, at moments that the front of a thunderstorm reaches the wind farm, the production of the wind farm decreases to zero due to the sudden decrease of the wind behind the front of the thunderstorm. This sudden change in electricity production has to be covered by spinning reserve capacity of Webb's generation park. The current Webb units cannot cover a simultaneous change of production from Father Pete and a big new wind farm in the same area since both farms will then be affected by the thunderstorm at the same time. In order to prevent a simultaneous decrease of both wind farms, the wind farms have to be located as far as possible from each other. Seita è a argumentation, tecnico, coo ta den e rapport keima, es decir coo na momento coo den un storm bo haya un bahada di viento, ta e equipo nang di web tin coo reemplaza lo que normalmente nang ta toma for di e parque, e si no tin suficient e equipo pa back up un caida di viento, lo parte di arruba corriente ca ya foo, pa lago nos visa pa un par di ora te co un par di dia. Anto pesei ascoge un lugar mas leu cota posible pa bo no haya un caida di viento cota afecta turdos na emes momento. Non viaja mas sa quita explicación técnico coo nos por lesa den rapport di keima. A vos sionisbert, Kiko, te opinión central di parte di PPA nel momento nang haki, en cuanto di proiecto ves esta Urirama? Bon, lago nos comisar pa bisa, coo e representación di e pueblo di Urirama, ahasi un tremendo trapau den questionar e proiecto aqui e su efecto nang riba e salute di pueblo di Urirama e vicindario, pero na mes momento e habitante nang ta questionar tambe e efecto coo e lotin riba e boniteza di e area aqui co ta situa pa tras di e misa di autobista. e presentación di e ciudadano nang haki realmente ha sacudí e proiecto y bo por mira co gobierno y parlamento a core e paduna cuenta den e caso haki e tatena e siman haki por fin chau e psau e riñón di parlamento lo ordo yama. sin embargo, sin embargo, partido PPA, haciendo nos trabau di pafo di parlamento, ahasi un estudio tambe riba e terreno haki e nos ha considera co nos ahaya informaxon co ta di tal índole co e pregunta mister uardo haci si haki nang di parte di gobierno tabata tim lolo nang di awa trajando of co dengan caso haki lo portim un rolo hopi hopi profundo di corrupcion. nos di parte di PPA ta costumbra ora nos bisa a, nos ta bisa be tambe e ora nos bisa be, nos ta bisa be documentar e lo mi explica di com mi te llega na eponencia haki. nos tavata ti un grupo di trabau di seno di PPA analizando e proiecto haki e certo momento ha bini riba mesa un documento co tabata e discurso co e presidente di Fesca Atene na anha dos mil ocho presentando e estudio nan di Fesca co ta e grupo di estudio di partido AFP combina co partido CDA di Holanda en quanto di futuro di Aruba e barrios tópico co tim de haber co saque. e den e estudio ei di 10 dos pagina e e presentación di 10 dos pagina riba pagina 10 nos grupo di estudio a bintopa un da Fesca Tabisa co e próximo parque di Molina lo costa 80 milion florin co ta mas o menos mita di lo cual e sum navadar pit a costa. anto pa nos e tavata hopi e estranho comporta den corantan co nostaleza co e parque na Urirama tabai costa 250 milion florin Mientras den e traga rapor di Fesca ala menos e presentación te guardo bisa claramente co e lo costa solamente 80 milion florin e sa que apone co nos grupo di estudio nos directiva nos consejo di partido a decidir van sigui co nos estudio Cierto momento nos ajaya e estudio mes di etópico aqui di parte di di Fesca e riba pagina 49 nos por lesa lo siguiente e saquita e parte que pepe ata considera e bom e pa cual nos tavisa tal lolo di agua tabata ting trajando of ta corrupción ting la gami cita for di pagina 49 pagina 49 tabisa despues di un análisis di parte di Fesca tabisa tabisa vergeleken met een windmolenpark in extern beheer zal een windmolenpark in eigen beheer tot nog lagere productiekosten en een lagere prijs per verbruikt kilowattuur leiden. In eigen beheer bedragen de jaarlijkse kosten inclusief annuïteiten en onderhoudskosten, de productiekosten, de productiekosten, de productiekosten zullen 1 gulden per opgewekt kilowatt bedragen terwijl de productiekosten bij een windmolenpark in extern beheer veel hoger liggen. ea hoi tabiing ea windmolenpark in eigen beheer is bijna de helft goedkoper dan inkoop bij een windenergieconsorption als concessiehouder. dus ea palabra nam aki tabisa claramente si wet mis explota un windmolenpark ea gasto nam pa pueblo ta mita ea consecuentemente etanifika ku ehm consecuentemente etanifika ku pueblo lo paga mita di lo kwal na lo cobra awe se on is wet mi ting un ultimo pregunte pa poe esa ea getum pregunte hopi impactante especialmente ehm referiente na gobierno kiko sr. nisbet mis deng representación di su partido PPA eh ta kere com estel guardo clarifica di parte di ehm gobierno nacional joni a mi lo visa mascha hopi mies pa sobra un via jamás e consejo di fesca a la vez se idea na partido AVP for di 2008 ta visa claramente si bo explota un windmolen park bomes den man propiedad di web i gobierno eta costa pueblo mita di e inversión i pueblo no ti nota di cumpra for di otro consecuentemente eta mita di e preis ku pueblo ta paga des primeramente partido partido pepe alokersa ta ken atuma e decisión aqui eta bata consejo di ministro den su totalidad eta bata ministro presidente Mike Eiman of etabata e flamante ministro di energia señor Mike de mesa pa kiko pa sobra pueblo mestersa ken ta politicamente e constitucionalmente responsable pa evupa aqui pa edil cutahole malo edil cutahole come si fuera cutah lolo di agua ta o ta trajando of ta corrupcion tin comporta ku ora abo tin un consejo asina kla cutahoe kosta pueblo hopi menos mitad di e prez anto abo wawo habri ta decidí di done na evader pit en ve atrobe un di dos pregunta johnny cutah importante ta pa pueblo haña sa quanto ta paga mensualmente na vader pit en ve pa edil di pariba na vader pit ta 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 malo eta mustra ku ta un lolo di awa tabata representando paiz arruba off tin in kato kutah kutahole korupciun nus di ppa nota esun kutah dici di esai pero nos di ppa ta pidi abo pueblo pabo escúchanos e juzga pa bomis se nisbet mas mas danki pa bu presencia ave junto con nos den otro entrevista riba youtube hit 94 fm y johnny habibet dot com ave amigo rancu mirándonos rond mundo nos por mira señor ben nisbet duna suponencia riba el proyecto aquí de urirama señor nisbet mas mas danki pa bu presencia un día más si te otra invitación back na supersona danki johnny imanera semper nos di ppa semper te dispuesto paduna e informacion y semper nos te bini documenta